Sì, siamo molto fieri di quello che abbiamo fatto oggi, è stata una partita veramente difficile, però lo sapevamo che sarebbe stata così, quindi abbiamo avuto la mentalità giusta anche quando siamo stati sotto, con 1-0 per l'ora abbiamo saputo reagire e quindi abbiamo portato a casa un punto importantissimo. Cosa vi ha dato Juric in questi giorni di allenamenti? La carica che è la più importante, secondo me la motivazione di andare avanti anche quando siamo sotto e quindi questo è stato molto importante per noi. Sì, abbiamo ritrovato il gruppo perché si è visto che tutti lottavano per la palla e hanno lottato fino all'ultimo secondo, quindi come hai detto anche tu sicuramente è un punto di partenza per le prossime partite che saranno altrettanto difficili. Com'è trovarsi di fronte per un portiere, per un'intera squadra Cristiano Ronaldo? Non siete riusciti a fermarlo al 100% però ci siete andati vicini, lo avete limitato? Come avevo detto prima è un onore per me giocare contro di lui, però alla fine è una partita di calcio, dobbiamo trattarla come trattiamo tutte le altre, alla fine abbiamo fatto bene a prendere il pareggio.